Colorado Springs ha bisogno di un dottore e io lo sono. Nessuno ha mai sentito di un dottore donna qui. C'è una prima volta per ogni cosa. Su Rai Movie, un classico della TV. Pentola Nera le ha appena dato un nome Cheyenne. Donna Medicina. Lei è un vero dottore? Sì, esatto. È andata all'università e tutto il resto? E tutto il resto. Fare il dottore è una cosa. Essere una donna è un'altra. Jane Seymour è la signora del West. Per tutta l'estate, dal lunedì al venerdì alle 20.30 su Rai Movie.